Non viene meno la campagna, adesso magari in questo momento forse meno sentita dai cittadini, però è in dubbio che se siamo in questa posizione possiamo parlare di una nuova situazione, quindi una convivenza col virus. Buona parte del merito sta appunto alla campagna vaccinale fatta negli ultimi 12 mesi. Continua la campagna, in copertura globale terza dose, considerando sopra i 12 anni siamo arrivati al 75,7%, sulla quarta dose come sappiamo si va un po' più lenti, comunque sopra gli 80 anni si sono vaccinati con quarta dose il 21,8%, questi sono gli ultimi dati di questa settimana. L'offerta c'è ovviamente e quindi l'invito ai cittadini comunque è quello di continuare con la campagna vaccinale.